Cosa cerchi quando guardi un film? Ci vuole... avventura! Forti e emozioni! È il nostro mestiere. Magari è un pizzico di terrore. Se questo è quello che chiedi a un grande film, aspettati qualcosa di ancora più grande. Meglio! Qualcosa di... Super! I vostri eroi sono arrivati! Super Film, ora su Pluto TV. Là fuori ci sono misteri da scoprire. La leggenda è vera. Enigmi indecifrabili da risolvere. Quindi è una mappa per trovare la metà della mappa che porta al tesoro. E avventure incredibili da vivere. E ora che cos'è quello? Allaccia le cinture e preparati a un canale pieno di emozioni, brividi e colpi di scema. Pronto a scoprire la verità? Guardate! Ci siamo! Super Misteri, ora su Pluto TV. Connessione in corso. 3, 2, 1, via! Salve a tutti! Stai per entrare in un mondo virtuale davvero speciale. Voi siete pronti? Sì, certo, facciamolo! Su questo canale la realtà è molto aumentata. Taffatevi le orecchie! E il divertimento è gigantesco. Forte! Super Gaming, ora su Pluto TV. Tieniti forte! Ragazzi, c'è una novità! Si parte per il fantamondo! Svegliati, timitarle! Tutti i tuoi desideri saranno realizzati. Che piacere rivedervi! Grazie ad un fanta incredibile, fanta invincibile, fanta insuperabile, fanta canale. Sì! Ragazzi, è fantastico! Insieme agli spassosi. Fanta genitori! Mitico! E questo è tanto per cominciare! Due fanta genitori, ora su Pluto. Pluto TV. Si torna a scuola! E' ora di sedersi al banco e affrontare l'amata matematica. Quel prof è tanto simpatico! Sedere e copiare l'esercizio! E quei mitici compagni di scuola! Ma niente panico! L'unica campanella che sentirai suonare ora è quella della ricreazione! Questa è proprio una buona idea! Sono permessi solo divertimento e per gli amici. Anziata! Super! Intervallo, ora su Pluto TV. Da qualche giorno Super è sparito dalla tua TV? Niente paura! Siamo sempre qui! Basta risintonizzare i canali! È davvero facilissimo! Se hai bisogno d'aiuto, vai su supertv.it che ci si tratta la città! Grazie a tutti.